è qui che è cominciato tutto un passo alla volta un tiro dopo l'altro provando e riprovando giocate dribbling ho girato tanto ho visto l'italia non sempre è stato facile e solo quando mi sono fermato a Bolzano ho trovato serenità a qui ho deciso di tutto mio sogno è un mio tuo vero il passo era tutto andato che prima ho finito e ho scampato come i amatori e i profi anche i profili ho scampato 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 Il calcio a volte è strano, ma quello che toglie, se si è determinati, può te lo arrivare. Un lungo viaggio tra serie B e C che alla fine mi ha riportato in Alto Adige. Il mio cuore è bianco-rosso, sono tornato a casa. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. C'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. C'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Per un calciatore il momento più bello è quando lo stadio dopo un gol arriva il suo nome. E io voglio continuare a suonare qui la mia sinfonia. E io voglio continuare a suonare qui la mia sinfonia. E io voglio continuare a suonare qui la mia sinfonia.